Ciao a tutti ragazzi, eccoci al nuovo filmato sui tutorial di Payday, in questo caso è 4 negozi difficoltà poca lisse, sono insieme a Tarabuso. Ciao a tutti. Iniziamo a guardare un attimino la descrizione del lavoro. Partiamo con un veloce riepilogo della missione, che è divisa in una strada con 4 negozi, dove di solito un overkill c'è un bancomat, lo apri, te la fai in solo e te ne vai in un attimo, praticamente 3 minuti e ti sei fatto la missione, mentre invece in difficoltà a bocalizzi il bancomat non c'è e dobbiamo girare per i negozi per trovare almeno una cassaforte che si spera sia piena e faccia concludere subito il tutto. Ovviamente se si è in 4 puoi gestirla in una maniera che ognuno va dentro un negozio, noi siamo in 2, la facciamo in 2 e quindi vediamo questa soluzione della cassaforte, non ci serve da comprare nessuna risorsa e l'occupaggiamento leggero per farla estinta e siamo pronti. via. Eccoci qua, andiamo, vediamo un po' dove si trova la cassaforte o altre. Eccola qua, la cassaforte è nel Pia Store. Mamma mia che velocità. Nessuna piccola, c'è solo quella grande, tra l'altro la guardia è pure uscita. Speriamo che ci resti per un po', telecamere dentro no, c'è solo una, ah no sì, eccola. C'è anche un civile. Uh, 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 rischio. Guarda che faccio eh. Metto la maschera, sparo lì, faccio staggiù un civile e lo porto qua dietro. E qualcuno ci ha visto. Eh, noi lo facciamo staggiù. Vai, vai, che ce la facciamo. Dici? Ce la facciamo. Bisogna far sparire però questi qui prima che torni la guardia dentro, sennò sa l'arma lì fuori. Via, 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 via. Vai, mettiamo qua dentro. Corri, 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 corri. Ma che stop it? Ma mori. Ah, abbiamo voluto i vetri. No, i vetri no. Dai, 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 dai. Prova e risponde che io butto giù tutti. C'è uno che scappa laggiù. C'è uno che more laggiù ora. Fa un culo. Lo fai. A posto. Presi. Però i cadaveri, vabbè, li tolgo io, vai. Nel tradentro prima che ti vede quello lì. Madonna, un altro. Vado io, vado io. Vado io. Oh, non c'è niente. Ho fatto un po' di kill, è un sbaglio. Praticamente non si guadagna niente con quante... Nemmeno mi posso prendere i corpi perché sono esterni alla mappa. Ah, c'è uno che mi segue, guarda. Me l'ho dimenticato. Fottiamo a spasso la gente, vai. Ci provo. Praticamente ora non ci vede più nessuno. Ho fatto una straccia. In questa missione. Eh, sì, sì. Però vediamo, magari ci va bene anche così. Pazienza. Tanto l'importante è la riuscita. Sì, non siamo stati a studiarla proprio a tavolino. Eh, no. Vediamo un po' che c'è dentro. Intanto do un'occhiata esterna, ma peccato non ci sono cassaforti. Adesso che potevo... vorrei che si poteva girare così. Su. Manca poco, porto dentro a questo civile. Anche se non fuori c'è una... Quasi una... Caterba di morti. Infatti ecco, dovrò intervenire, penso anche adesso. Forse qualcuno comincerà a vedere sta strage. Yeee, un sacco di soldi. A posto. Ora aspettiamo il furgone. Ecco fatto. Ok. E ora niente. Aspettiamo a tre minuti, come al solito. Questi, casomale, li portiamo dentro. Li facciamo vedere tutti i tre minuti, perché c'è talmente caos che... Aia. Ma forse siamo riusciti a non farci vedere dal ristorante. Esatto. Il problema sono quei corpi in mezzo alla strada. Eh, quelli forse... Ma te c'hai attenzione di seguirmi o ti devo sparare? Oggi c'hai il grilletto facile. Eh, oggi mi hanno fatto un po' girare le scatole. L'ha letto quanti minuti? L'ha detto? Non ci ho fatto caso. Sì, tre minuti. Quindi prima di sei minuti qui non vediamo nulla. A meno che una volta ti dice che arriva tra tre minuti, poi ne viene dopo uno. Abbiamo notato che fa un po' come gli pare. Sì, fa lo scherzone. Ah, arriva... Eh, questo purtroppo... Eh, anche questa... Ehi. A posto. E la riportiamo dentro. Vai, pensaci te che vi faccio il giro alla ricerca dei pacchetti di cage. Che non si butta via niente. I pacchetti di cage sono come il maiale. Eh, vediamo un po'. Qua ce n'è subito uno. Vediamo se ne trovo altri, senza farmi vedere da magari 120.000 persone. Eccone qua un altro. Stavolta è verde. Poi ne approfitto per scassinare anche la porta qua dietro, che a volte il furgone ce lo ritroviamo in un posto chiuso, in un piccolo parcheggio esterno chiuso. Forse è stata fatta in overkill, ma a quest'ora l'abbiamo già completata. Eh sì. In overkill è molto molto più semplice. Sì, lo puoi fare proprio finché non ti danno i balus, da quanto è semplice. Allora, vediamo intanto, non noto altri pacchetti fattibili. Ah, posso entrare anche dentro il negozio, ormai. No, però non è il caso, via. C'è la telecamera e tutto. Eh, non è tanto la telecamera ormai, non è più un problema. Non è più un problema. Allora, gli rego le mani, regate te a posto. Allora, vediamo altri detti. Oh, ma qui c'è il cassafortone? Quello grosso, grosso. Ben venga, allora. Abbiamo fatto bene entrare di qua, vedi. Mi metto a scassinarlo immediatamente. Guardiamo se c'era qualche altro pacchetto di cage, che a volte lì nascondono. Sì, mi sa che lo intravedo uno qua sotto. Qui dove sono io, nello scaffale. Ora, guardo. A volte li mettono sugli scaffali direttamente. E' anche una cosa molto simpatica. Così uno deve pure perdere tempo a cercarli. Eccolo qua. Yeah. Ed era verde. Ancora sette, madonna. Vediamo. Eh sì, ce ne sono parecchie. Ecco qua. E' arrivato il camion. E abbiamo anche aperto questa cassaforte. E c'è gioielli e un po' di soldini. Eh sì. E' andata comunque. Vai. Nel caos più assoluto si è conclusa bene. Ho un altro pacchetto. Per noi, non per qualche civile, ma vabbè. Guarda il capello. Via. Vuh, 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 vuh. Mmm. E vabbè. Vai, butta dentro. Prima che sono in allarme ce la dovremmo fare. E l'abbiamo fatta comunque in stilt. E vai. Per quanto è strano ci siamo riusciti. Ed ecco fatto come, diciamo, si fa. Sì, fra virgolette. Come si dovrebbe fare, ma. Il succo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video tutorial di Payday. Alla prossima. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.